Ma che cazzo! Stupido libro del cazzo! Non ci credo che Nicky proponga quel libro ai ragazzi, insomma, per tutto il tempo, vi faccio il riassunto, per tutto il tempo tiffi per questo dizio di Hemingway che sopravviva alla guerra e stia con la donna amata, Katrin Vagle. Sono le 4 del mattino, Pat. E ce la fa, ce la fa, sopravvive alla guerra dopo essere saltato in aria, sopravvive e fugge in Svizzera con Katrin. Ma ora Katrin è incinta, Katrin è incinta, non è meraviglioso? E si rifugiano tra le montagne, saranno felici e non faranno altro che bere vino e ballare, ma insieme. Le scene in cui ballano sono noiose, ma mi piacciono perché sono felici. Pensate che finisca lì? No, scrive un altro finale. Lei muore, papà. Insomma, il mondo è già difficile così. Cazzo se è già difficile così. Nessuno sa dire, ehi, siamo positivi, diamo un lieto fine a questa storia. Pat, tu ci devi delle scuse. Mamma, non posso chiedere scusa per questo, non chiederò scusa per questo. Sapete che farò? Chiederò scusa da parte di Ernest Hemingway. Perché qui la colpa è sua. Sì, dia a Ernest Hemingway di chiamarci per scusarsi con noi anche lui.